La tempesta tra due donne. La recente polemica tra Gabriella, madre di Fabrizio Corona, e Nina Moric, ex compagna di Corona e madre di Carlos, si è trasformata in un vero e proprio scontro sui social. Il tutto è nato da un commento diretto della suocera nei confronti della nuora, sollevando dubbi sul ruolo di madre di Nina e sulla sua idoneità a frequentare un ragazzo come Carlos. Nina Moric ha risposto con fermezza, sottolineando il suo punto di vista sul giudizio degli altri e sulla percezione delle persone positive e negative nella vita. La replica di Nina Moric. Dopo aver reso pubblico il messaggio di Gabriella, Nina Moric ha risposto con un enigmatico post che pare essere un una risposta indiretta alla suocera. Maggiore, non giudicare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti danno la felicità, le persone cattive ti danno l'esperienza. Le persone peggiori ti daranno delle lezioni mentre quelle migliori ti daranno ricordi. Fabrizio Corona, attualmente fuori dal paese per le vacanze, ha preferito mantenere il silenzio su questa vicenda familiare. I rapporti incrinati e il passato burrascoso. Nina Moric e Gabriella Corona non hanno mai avuto un rapporto idilliaco. La loro storia è stata segnata da momenti difficili, soprattutto dopo la separazione della modella croata da Fabrizio Corona nel 2007. Gabriella ha sempre manifestato preoccupazione per l'educazione di Carlos, il figlio nato dalla loro relazione. Attualmente Carlos ha 22 anni e, secondo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, sta affrontando delle difficoltà personali. Nonostante i contrasti tra gli adulti, la vera vittima sembra essere il giovane Carlos, coinvolto involontariamente in una situazione familiare complessa. Approfondimenti. Gabriella, madre di Fabrizio Corona, coinvolta in una polemica con Nina Moric. Nina Moric, ex compagna di Fabrizio Corona e madre di Carlos. Ha risposto alle critiche di Gabriella riguardo al suo ruolo di madre e alla relazione con il figlio. Fabrizio Corona, noto personaggio mediatico italiano, ex compagno di Nina Moric e figlio di Gabriella. Attualmente non ha preso posizione sulla polemica familiare. Carlos, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, al centro dell'attenzione a causa della disputa tra le due donne. La polemica tra Gabriella e Nina Moric evidenzia i contrasti familiari e i dissapori derivati dalla separazione di Fabrizio Corona e Nina Moric nel 2007. Gabriella ha manifestato preoccupazioni sull'educazione di Carlos, il loro figlio, mentre Nina Moric ha difeso il suo ruolo di madre e la sua capacità di fare scelte per il bene del figlio. La situazione riguarda anche Fabrizio Corona, noto personaggio mediatico in Italia, attualmente in vacanza e in silenzio riguardo alla controversia familiare. La vicenda mette in luce la complessità delle dinamiche familiari e gli effetti che possono avere sul benessere dei figli coinvolti. In particolare, sottolinea la necessità di affrontare i conflitti in modo costruttivo per proteggere il benessere dei giovani, come il 22enne Carlos, tragicamente coinvolto in una situazione di tensione tra adulti.